col video di oggi andiamo a integrare l'ultimo uscito qualche giorno fa dal momento che anche le categorie propedeutiche alla formula 1 hanno annunciato che partiranno in contemporanea con la formula 1 e dunque completiamo il video di presentazione andando anche a spiegare come funzionano le categorie propedeutiche alla formula 1 quindi formula 2 e formula 3 e indicando chi potrebbero essere i principali favoriti ovviamente hanno un regolamento diverso rispetto alle formula 1 le macchine sono totalmente diverse parliamo in questo caso per quanto riguarda le formula 2 delle macchine dall'ara modello 2018 con un motore v6 turbo meccachrome dall'ara e anche il fornitore per la conaca delle macchine formula 3 la formula 2 e la formula 3 non competono negli stessi circuiti totali della formula 1 ma soltanto in alcuni e il calendario per quanto riguarda la parte dei round europei sarà uguale identica sia per la formula 1 sia per le categorie propedeutiche vedete che appunto l'austria l'ungheria l'inghilterra la spagna il belgio e l'italia ospiteranno i round certificati come ha detto la federazione internazionale la differenza è che a differenza della formula 1 sia formula 2 che formula 3 hanno due gare in programma la prima si corre al sabato pomeriggio con qualifiche il venerdì una gara lunga per quanto riguarda la formula 2 con pit stop obbligatorio al termine dei quali i primi otto classificati vengono invertiti di griglia e dunque di conseguenza il primo parte ottavo e l'ottavo parte primo invece per quanto riguarda tutti gli altri parte dal nono al ventiduesimo sono diciamo partiranno con le stesse posizioni acquisite nella gara 1 in questo caso la formula 2 assegna punti sia per quanto riguarda la pole position 4 per la precisione e 1 per il giro veloce ovviamente sono gare che hanno un equilibrio maggiore un campionato quello di formula 2 e formula 3 che ha di fatto il monomarca attivo sia per quanto riguarda la macchina sia per quanto riguarda le gomme ulteriore in cosa importante da sottolineare le gare lunghe quelle che qui vedete chiamate feature race per la formula 2 hanno il pit stop obbligatorio cosa che invece non succede per la sprint race avvanno appunti anche in questo caso i primi 10 piloti con un punteggio classico per quanto riguarda gara 1 per quanto riguarda gara 2 invece il punteggio è ridotto basti pensare che il vincitore prende soltanto 15 punti chi sono i piloti protagonisti della formula 2 2020 sono di fatto per la maggior parte dei casi tutti i piloti delle scuderie di formula 1 che con il loro team vanno a mettere i loro piloti nelle cattorie problematiche per farli crescere e adesso scorrendo l'elenco andiamo a vedere chi sono i favoriti il team vincitore per quanto riguarda il campionato costruttore è stato il team dams che l'anno scorso aveva nicolas latifi che adesso è andato in formula 1 in williams ma a vincerlo il campionato fu nick de vries olandese per regolamento il vincitore di formula 2 non può andare in a difendersi il titolo ma deve andare per forza in un'altra categoria nick de vries in questo momento corre in formula e per mercedes ufficiale chi sono i piloti schierati lo vediamo qui in questa grafica sono addirittura 22 un italiano presente il veterano di lungo corso luca ghiotto va di lui parleremo al termine di questo elenco andiamo letteralmente in ordine team dams sono dei team storici della formula 2 schiera l'indonesiano sean galile uno dei piloti più esperti della formula 2 un veterano di lunghissimo corso a fianco a daniel tiktum pilota britannico che era del vivaio red bull poi ha perso i punti per la super licenza non fa più del vivaio red bull è un pilota che adesso corre da solo e ha scelto di correre per il team dams un pilota molto promettente ma molto focoso però è un pilota da tenere in considerazione un team importante che ha fatto un'ottima figura l'anno scorso il team uni virtuosi che di fatto è l'ex russian time che conferma guanyu ju pilota cinese che come vedete dalla foto è un pilota dello junior team della renault pilota veramente molto promettente che potrebbe andare in un futuro si spera nella scuderia francese sempre se quest'ultima non si ritiri dalla formula 1 degli anni a venire pilota a fianco a guanyu ju è callum ilot anche lui un junior team ma lui è un pilota della driver academy della ferrari la ferrari nelle categorie prepediatiche soprattutto la formula 2 e la formula 3 possiede una marea di piloti nella formula 2 sono addirittura cinque e callum ilot è uno di questi è un pilota dell'academy ferrari anche il neozelandese marcus armstrong che viene direttamente dalla formula 3 ha corso con prema l'anno scorso e corre con art grand prix quest'anno art grand prix è il team che storicamente domina le categorie prepediatiche insieme al team prema a fianco al neozelandese marcus armstrong c'è christian lurgard giovanissimo pilota danese anche lui è uno junior team pilot in questo caso è della renault quindi abbiamo già visto che su sei piloti di fatto quattro sono assegnati già a scuderie di formula 1 team carlin che era il team che aveva lando norris all'epoca schiera yuki sunoda che è un pilota della onda quindi diciamo papabile per toro rosso red bull tanto per dare un'indicazione ed è un pilota della red bull anche i handaru va la pilota indiano che viene direttamente dalla formula 3 si è classificato secondo dietro al vincitore dell'anno scorso ovvero robert schwarzman che corre anche quest'anno in formula 2 il team campus conferma l'anglo coreano jack aitken che è un pilota della renault o meglio è stato un pilota della renault adesso ha abbandonato la scuderia francese e adesso è diventato uno junior team della williams quindi attenzione a jack aitken perché potrebbe essere un papabile per la scuderia che al momento è in vendita completa lo schieramento del team campus il pilota brasiliano guilherme samaya all'esordio assoluto in formula 2 il team che era il sauber junior team l'anno scorso presenta e conferma un altro grande veterano della formula 2 ovvero lui delle tre pilota francese affiancato a pedro piquet che è il figlio di nelson mp motorsport team olandese conferma o meglio ingaggia nobuaro mazushita altro veterano giapponese di lunghissimo corso della formula 2 viene dal team carlin nobuaro mazushita fa l'esordio in formula 2 felipe drugovic che è un pilota che ha stravinto la formula 3 spagnola viene direttamente dalla formula 3 internazionale ritorna a tempo pieno il veterano russo artion mark lo uno dei miei piloti preferiti in formula 2 un pilota che gestisce le gomme veramente da dio e meriterebbe molto di più di quanto raccolto è un pilota che soprattutto a monte carlo va da dio per fortuna grazie a dio monte carlo non c'è quest'anno però è un pilota secondo me molto importante ha corso per il junior team renault adesso è un pilota che si finanzia da solo e corre con il team hwa race lab che di fatto è uno junior team della mclaren di fianco a artion mark lov c'è giuliano resi terzo pilota della scuderia ferrari junior figlio di jean quindi abbiamo due casi di figli d'arte di ex piloti della ferrari uno è appunto giuliano lesi figlio di jean e l'altro è mick schumacher figlio di michael che di certo non avete bisogno della mia presentazione per sapere chi è michael schumacher il figlio mick non arriva neanche lontanamente al talento del padre diciamolo è un pilota che comunque dai media soprattutto italiani è veramente molto pompato per via del cognome importante che trova il problema è che mick schumacher si parla di lui di già un futuro adesso in formula 1 inteso per il 2021 il problema che in formula 2 ha dimostrato veramente molto poco ha vinto soltanto una gara in carriera una sprint race in ungheria partendo diciamo primo e rimanendo sempre prima ma semplicemente sfruttando l'ungheria che è un posto dove non si passa mai e di fatto arrivando ottavo in gara 1 sfruttando l'inversione di griglia per me è molto presto vedere il figlio di michael schumacher in formula 1 perché veramente ha dimostrato molto poco chi ha dimostrato molto di più è già questo pilota un altro russo robert schwarzman campione in carica di formula 3 come dicevo per regolamento le categorie propedeutiche non possono far sì che il campione sia un difendente del titolo in carica e dunque il campione deve per forza emigrare robert schwarzman ha dominato il campionato di formula 3 dell'anno scorso un pilota molto costante attenzione a lui e anche robert schwarzman è un pilota junior della ferrari così come mick schumacher altro junior delle squadre è roy nissani pilota israeliano con nazionalità anche francese però lui corre per lo stato di israele pilota junior della williams e dunque la williams schiera due piloti aitken e nissani completa lo schieramento del team trident team tutto italiano marino sato per la cronaca il team trident è proprietà di maurizio salvadori padre di luca il noto pilota del national trophy italiano youtuber che probabilmente voi tutti seguirete così come lo seguo io ultimo team all'esordio assoluto in formula 2 il team high tech grand prix che schiera un altro pilota russo nikita mazepin pilota che in formula 3 ha fatto molto bene in formula 2 il primo anno si è ambientato un po così c'è la conferma ad aspettarsi per il pilota russo insieme a luca ghiotto il pilota vicentino che veramente meriterebbe molto di più di quanto raccolto luca ghiotto è sempre stato nei primi cinque posti dei campionati di formula 2 o gp2 quando c'era la gp2 dove ha corso è un pilota che secondo me merita la formula 1 molto di più di piloti che sono attualmente in formula 1 non mi a caso stroll grojan magnussen e potrei citarne altri però i tre sono l'esempio più lampante secondo me e ghiotto purtroppo è stato sempre sfortunato un pilota che non ha avuto contatti con junior team e sappiamo quanto questa cosa può incidere assolutamente per quanto riguarda la carriera di un pilota nella categoria propedeutiche spero possa vincere il titolo da italiano anche se è veramente molto complicato va detto che l'anno scorso non c'erano ruchi a dominare il campionato ma c'erano i piloti di esperienza lo stesso ghiotto che è arrivato terzo nello scorso mondiale latifica di formula 1 e devrize che è andato in formula e è secondo me un campionato molto interessante è un campionato molto combattuto il monomarca il monogomma secondo me è un buon viatico per avere un campionato competitivo per quanto riguarda le categorie propedeutiche non me lo aspetto minimamente in formula 1 seguite questa gara di formula 2 e formula 3 anche qui ci saranno i racing post dedicati ma soltanto al termine del piatto principale ovvero la gara di formula 1 formula 2 che partirà in austria insieme alla formula 1 così come la formula 3 e anche qui della formula 3 c'è da spiegare veramente un paio di cose mentre arriva la grafica di wikipedia inglese che ci dà una mano anche qui la formula 3 sono delle macchine dall'ara anche il motore in questo caso è v6 della mecha chrome il modello è più recente delle formula 2 è del 2019 andiamo a vedere il calendario come ovviamente abbiamo detto il calendario è identico per quanto riguarda formula 3 formula 2 c'è soltanto una differenza per quanto riguarda la lunghezza delle gare perché a gara 1 e gara 2 in questo caso sono identiche anche qui c'è la inversione della griglia anche se da quest'anno la griglia non coinvolgerà più i primi 8 come inversione ma i primi 10 per cui in questo caso chi arriverà a decimo ed ultima posizione a punti di conseguenza partirà per primo in gara 2 e viceversa chi arriva primo in gara 1 partirà a decimo in gara 2 in questo caso sono 30 30 piloti addirittura per quanto riguarda la formula 3 e li andiamo velocemente a rivedere ricordiamo che il campione in carica è il team prema e la formula 3 l'anno scorso la vinse robert schwarzman pilota russo che adesso corre in formula 2 sono tre vetture per team 10 team primo pilota di questi 30 oscar piastri pilota che corre per il team prema pilota inglese e australiano scusate ma che ha corso con licenza inglese altro pilota interessante da sentire da seguire frederick vesti pilota danese che è uno dei talenti più importanti di questo stato dopo christian lungard pilota giovanissimo vesti 18enne confermato come terzo pilota del team prema logan sergeant pilota statunitense anche in questo caso ci sono dei piloti che sono parte delle scuderie di formula 1 nei rispettivi junior team e li vedremo nel corso di questo elenco uno di questi è max futrell che è un pilota che è di fatto del renault junior team pilota inglese che va al team high tech secondo anno per il pilota britannico liam lawson è il secondo pilota del team high tech pilota neozelandese al secondo anno di carriera in formula 3 pilota del red bull junior team c'è l'esordio per denis hauger pilota norvegese che viene dalla formula 4 in particolare il norvegese hauer ha vinto la formula 4 italiana ed è il campione in carica di questa categoria il team heart schiera un pilota francese per il team francese ovvero theo purser che è il pilota campione di categoria della formula 4 tedesca affiancato da alexander schmolniar pilota russo all'esordio assoluto confermato sebastian fernandez che è un pilota venezuelano vi ricordo che corre con licenza spagnola il team trident schiera lirim zendeli che veniva da una stagione abbastanza scarsa l'anno scorso in formula 3 era comunque un campione di categoria anche lui veniva dalla formula 4 tedesca conferma per un altro veterano di categoria della formula 3 il canadese devlin de francesco che corre per il team trident c'è l'esordio in formula 3 per holy coldwell che è un pilota britannico che completa dunque l'elenco il team race lab come vedete i team sono gli stessi della formula 2 accensione del team jenzer enzo fittipaldi è il pilota della ferrari driver academy il junior team ferrari che rappresenta i colori della scuola di maranello corre per hwa race lab team che in teoria sarebbe affiliato mercedes anche se conferma piloti che possono essere nel suo evario come per esempio jake hughes altro grande veterano e jack duan che è un pilota australiano anche lui fa parte della red bull junior team qui la red bull vedete che ha tanti piloti più che in formula 2 dove ha un fottio di piloti la ferrari la renault e la williams il team olandese mp motorsport schiava due olandesi ricard vescoor e bent viscal al seconda stagione per quanto riguarda il numero 18 esordio assoluto per lucas dunner pilota giovanissimo austriaco altro australiano presente ed è il terzo in questa categoria è kelan williams che corre per il team jenzer insieme a due italiani federico malvestiti che rientra di fatto dal team jenzer dopo aver fatto una comparsata l'anno scorso esordio assoluto per matteo nannini che è il pilota vincitore della formula 4 degli emirati arabi è un pilota 16 n matteo nannini giovanissimo ci sarà che matteo faccia esperienza tra l'altro matteo è un nome bellissimo perché è praticamente uguale al mio nome di battesimo il team cairuz schiera un altro grande veterano ovvero nico cari pilota finlandese ed è l'unico di fatto finlandese competitivo in questa sessione esordio assoluto per igor fraga scusatemi pilota brasiliano nato in giappone che tra l'altro è anche un pilota di esport igor fraga viene dalla toyota racing series vinta nel 2020 c'è un altro schumacher presente in griglia ed è in questo caso david schumacher o david per dire la tedesca se mick è il figlio di michael david è il figlio di ralph e dunque come ai tempi dei fratelli schumacher ci sono i figli dei piloti che fecero quello che fecero in formula 1 molto più michael che ralph anche nelle categorie inferiori mick abbiamo visto in formula 2 pilota molto più pompato david schumacher un pilota molto più nell'anonimato non se lo caga praticamente nessuno è comunque il figlio di ralph ed è forse anche per questo che viene pompato meno però è al di fatto stagione numero 2 in formula 3 anche se l'anno scorso fece una comparsa da wild card allo scorso campionato nella gara finale team carlin schiera clement novalac che in realtà è francese io l'ho pronunciata all'inglese ma il pilota francese in questo caso corre con licenza britannica il pilota britannico che va a correre col team carlin è enam ahmed pilota britannico con discendenze pakistane esorge assoluto per cameron das che è il primo campione della formula 4 statunitense dunque come vedete la formula 3 coinvolge tanti campioni di formula 4 delle varie nazioni avete visto il campione italiano il campione tedesco il campione americano insomma tanti piloti giovani che si faranno e speriamo che possano darci soddisfazioni concludiamo con il team campus che è anche in formula 2 con alexander peroni confermato il pilota australiano alessio de ledda anche lui confermato dopo una stagione disastrosa lo scorso anno ma va detto che de ledda sta correndo da poco sulle due ruote è un pilota che ha corso di fatto una stagione in formula 4 italiana e poi in formula 3 e lì ci fermiamo lui viene dalle moto faccio una menzione speciale per sofia fleurs che è la pilota che seguirò con più attenzione in questo campionato di formula 2 anzi formula 3 sofia fleurs per chi non lo sapesse è una pilota che ha fatto un incidente pauroso a macao nel 2018 ha rischiato seriamente di aver compromesso non solo la carriera ha avuto un incidente molto grave alle gambe è tornata a camminare con una forza di volontà incredibile la pilota tedesca torna sulle monoposto e avrà un mio occhio di riguardo personale la giovanissima sofia che corre con il team campus a concludere questo elenco di 30 piloti in formula 3 una formula 3 che spero sia equilibrata così come tutti gli altri anni una categoria che ha dato sempre spettacolo così come la formula 2 sulla parentesi di sofia fleurs io chiudo questo video di presentazione spero che voi seguiate anche queste gare che sono con qualificazioni al venerdì e gare al sabato e la appunto per un weekend molto pieno di motori fatemi sapere che cosa ne pensate il saluto da parte di me tutorial e dunque ci vediamo a un prossimo video